care mamme oggi è la vostra festa e quindi vi faccio i miei più cari auguri tantissimi auguri a tutte le mamme d'italia a tutte le mamme del mondo e un augurio speciale ovviamente alla mia mamma simonetta grazie per esserci sempre per me anche a distanza ti voglio bene e allora auguri a tutte le mamme buona festa della mamma anche da me oggi è la festa della mamma e a me è tornata in mente una frase di un poeta americano william ross wallace che dice così la mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo beh credo che in questa frase si racchiuda il significato della parola mamma o perlomeno per me è così quindi tanti auguri a tutte le mamme del mondo e non posso non approfittare dell'occasione per mandare un vaccino speciale alla mia tanti ma tanti auguri a tutte tutte le mamme del mondo felizia delle madres lascheremo grazie a spolestar per sopportarne besito tanti auguri a tutte le mamme da erica ripeto tantissimi auguri un augurio speciale a maurizia la mia mamma un bacio a tutti un augurio speciale a tutte le mamme del mondo un bacio tanti auguri a tutti volevo fare gli auguri a tutte le mamme del mondo a quelle vicine a quelle lontane e volevo svelare un segreto le mamme sono magiche sono quelle che con un solo bacino riuscivano a far passare tutti i mali del mondo un bacio a tutte le mamme auguri radio 40 fai gli auguri a tutte le mamme in particolare alla nostra mamma milena ciao sono caterina e volevo fare gli auguri a tutte le mamme d'italia e a tutte le mamme del mondo vi auguro una splendida festa della mamma vi mando un bacio oggi è una giornata speciale a voi che ci siete sempre vi fate ogni giorno il possibile per noi buona festa della mamma ciao mamma volevo ringraziarti per tutto quello che fai per me anche a distanza oggi è la tua festa ma è anche la festa di tutte le mamme del mondo e quindi buona festa della mamma a tutte buongiorno a tutti gli amici di news signal tv sono kilian e volevo augurare una buona festa della mamma a tutte le mamme in particolare la mia buona giornata a tutti ciao a maggio c'è una data che è quella più importante di tutti la festa della mamma in questo periodo sicuramente ce ne siamo resi conto fate sorridere le vostre mamme perché il sorriso di una mamma è la cosa più bella del mondo e a tal proposito io spero di far sorridere la mia mamma susanna vorrei fare un augurio a tutte le mamme d'italia tutte le mamme del mondo oggi è la festa della mamma e vorrei fare un augurio particolare alla mia luisa che mi sostiene sempre crede in me e mi sopporta new signal vi augura buona festa della mamma